Cosa ci trovi di divertente? Allora, tu e l'infermiera cohort state insieme o no? Non ufficialmente, direi, ma io e l'infermiera cohort abbiamo una di quelle relazioni. Lo faranno o non lo faranno, capisci? Eh, non proprio. Vuoi davvero fingere di non avere una piccola cotta per me? Non devo affatto fingere, ti assicuro che io non ho nessun tipo di cotta per te. Beh, e perché no? Voglio dire, sono io. Già. Oh, capisco. E allora per chi, di grazia, hai una cotta? Beh. Capitan Man, lui! Sì, è così affascinante. Come darle torto? Ah, giù di quella bocca! Ah, sì? Perché non me lo dici in faccia? L'ho appena fatto! Eh, girati, per favore. Girarmi? Non ne vedo il motivo. Girati e alza la testa, Mignac. Alzare la testa? Ah! Sorpresa! Non ne vedo! Ora gettate le armi O farò sfondare il tetto dalla vostra presidentessa E la manderò sull'arcobaleno dove muoiono i petti rossi Ok, va bene, le gettiamo Ah, ho vinto ancora! Sì! Non vi muovete! Infermiera Gord! Lasciatemi! Così impari! Prendilo! Torni qui, godarda! Forza, togliamoci questa roba! Ma certo! Cosa? Ah, il mio orecchio! Hai perso la lotta, bello! Ehi, tu! Rimetti la presidentessa sulla sedia! Disarmato! Ridammelo subito! Non mi va? Ma ti darò il mio palmo! Il tuo palmo? Che vuoi dire? Bel palmo in faccia Grazie! Ehi, me lo presti un attimo? Certo! Grazie Ehi, mini-hack! Che c'è? No, 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 no! Non usare il mio eliometro contro di me! Perché non dovrei? Non sbaglia un conto? Va a dirlo ai petti rossi! Oltre l'arcobaleno! Nonostante questo volo, tornerà presto! In un modo o nell'altro! Ehi, sono tu! Ok! Qualcuno che conosco è morto! Ehi, sono tu!